Leopardi torna da Roma profondamente deluso dalla città, dalle persone che ha incontrato e annota sullo zibaldone delle riflessioni che diventano sempre più amare. In effetti già è da un po' che le riflessioni dello zibaldone facevano presagire un cambiamento, un'evoluzione del pensiero leopardiano, quello che didatticamente noi indichiamo come il passaggio dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. Ebbene le operette morali di Leopardi segnano in maniera molto interessante questo passaggio e questa nuova presa di consapevolezza della verità delle proprie affermazioni e di quello che appunto lui chiama l'arido vero. Ma vediamo un pochettino di che cosa sono queste operette morali. I operette morali sono delle prosette satiriche alla maniera di Luciano, così vengono definite da Leopardi. Luciano è un autore greco, Luciano di Samosata, che ha scritto dei dialoghi, degli dei, dialoghi dei morti, dialoghi quindi la cui base è una base filosofica e quindi appunto, ecco, morali e sicuramente Leopardi ha preso ispirazione da quest'opera, ma le operette morali del poete Recanati sono ben altra cosa. Si tratta appunto di piccoli componimenti, come sembrerebbe far pensare il nome operette, ma soprattutto sono componimenti caratterizzati da un forte spirito satirico. Quindi il termine operette fa riferimento sia alla brevità delle singole opere sia anche e soprattutto a questo spirito che pervade tutte quante le operette. L'aggettivo morali fa riferimento naturalmente alla filosofia e in questo caso naturalmente al momento in cui Leopardi prende atto dell'arido vero, cioè del pessimismo cosmico. Vediamo un pochettino come si articolano le operette morali, le 24 operette morali. Noi ci soffermeremo in particolare su tre periodi di composizione. Abbiamo annotato appunto nel 1825 anche il frammento apocrifo di Stratoni Lamsaco, ma giusto per dare un quadro globale della situazione. Partiamo dal 1824. 20 delle 24 operette morali sono state scritte Leopardi nel giro di circa 11 mesi. Questo anno molto molto difficile per lui e qui troviamo, e lo vedremo nelle prossime slide, tutti quei temi attorno a cui andava riflettendo il poeta nello Zibaldone. Il 24 è anche il momento in cui matura il silenzio poetico. Leopardi ha finito di scrivere gli digli nel 21, nel 22 l'ultima delle canzoni, canzoni civili, e di fatto la filosofia, la riflessione filosofica in questa fase sembrerebbe mettere da parte la poesia. Leopardi cioè abbandona la poesia e decide di dedicarsi alla composizione di prose, perché secondo lui la filosofia può realizzarsi meglio in quella forma. Nel 1827, ancora nel periodo del cosiddetto silenzio poetico leopardiano, Leopardi aggiunge alle prime venti operette morali anche il Copernico e il dialogo di Plotino e Porfirio. Di qui a un anno pommeno Leopardi tornerà alla poesia, questa volta si tratta appunto dei canti pisano-recanatesi, questa volta convinto che la poesia sia uno strumento importante per la diffusione della propria filosofia di vita e quindi abbiamo il pensiero poetante appunto di questi canti straordinari. Le ultime due perette morali sono state scritte nel 1832 e sono il dialogo di un venitore di almanacchi di un passeggere e il dialogo di Tristano e di un amico. Queste opere sono delle opere particolarmente significative e caratterizzate come appunto quelle di Luciano e Samosa, da cui in qualche modo fanno riferimento, da una forma che è dialogica fondamentalmente, se non appunto rarissimi casi, come può essere la prima operetta, appunto la storia del genere umano. Quindi nelle operette prevale la forma del dialogo, perché la forma del dialogo è la forma canonica delle opere filosofiche, pensiamo appunto ai dialoghi platonici e pensiamo anche a una forma un po' meno serrata di dialogo che incontriamo in alcune opere aristoteliche. Comunque il dialogo è appunto il momento del dibattito, del debate, come si dice oggi, dello scontro argomentativo, quindi il momento più interessante per mettere in evidenza posizioni che potrebbero essere anche diverse, opposte. E vediamo chi sono allora i personaggi di questi dialoghi. Ci sono personaggi storici come Colombo, Gutierrez, Plotino, Porfirio, Tasso, Federico Ruiz, ma accanto a questi, e talvolta anche nelle stesse operette morali, come appunto quelle di Federico Ruiz e delle sue mummie, o di Tasso il suo genio familiare, troviamo personaggi favolosi, come per esempio Ercole e Atlante, il mago Malambruno, il diavolo Farfarello, la natura un'anima, terra e la luna, moda e morte, quindi tutti in questo caso, questi ultimi tre casi, tutti elementi che vengono poi personificati. Questi che ho elencato sono appunto dei personaggi di alcune operette morali che escludono la presenza dell'uomo. Quali sono i temi che affronta Leopardi in queste operette morali? I temi del pessimismo cosmico, cioè l'infelicità dell'uomo che nasce dallo squilibrio tra desideri e la realizzabilità degli stessi, la condizione di noia e di dolore insita nell'infelicità stessa dell'uomo, la presa di consapevolezza dell'indifferenza della natura nei confronti degli esseri umani e legati anche a questi naturalmente l'illusione dell'uomo di essere al centro dell'universo e cioè l'antropocentrismo. Per quanto riguarda le operette morali del 1824 ho provato a dividerle, non tutte quante naturalmente, a seconda del tema principale affrontato da Leopardi in quel testo. Si tratta appunto di un'edizione che segue il tema principale perché in tante operette morali e come abbiamo visto anche nel slide precedente un tema, per esempio quello dell'infelicità, porta con sé naturalmente tutta una serie di altri temi ad esso collegati. Sicuramente sono operette che criticano l'antropocentrismo, quelle che raccontano la storia di un folletto di un ognomo che si accorgono del silenzio che c'è sulla terra e notano che l'uomo è scomparso ma in qualche modo si continua a vivere. Anche il tema della crisi all'antropocentrismo è presente nel secondo dialogo, quello della terra e della luna ovviamente, così come è presente anche una delle pochissime operette carattere narrativo che è la storia del genere umano in cui appunto si va a individuare alcune tappe fondamentali e alla fine ci rende conto che l'uomo diventa non solo sempre più infelice ma soprattutto che la sua infelicità non cambia nonostante il progresso. Il dialogo della natura di un islandese infatti invece è forse una delle operette più famose, in quest'operetta abbiamo visto in un'altra video lezione come si può notare il passaggio tra il pessimismo storico e il pessimismo cosmico ma comunque il dialogo della natura di un islandese che compendia chiaramente non solo la critica all'antropocentrismo ma anche ovviamente il tema dell'infelicità che scaturisce proprio da questa totale indifferenza della natura nei confronti dell'uomo. Opera sicuramente lirica è il Cantico del Gallo Silvestre. L'infelicità dell'uomo e il sentimento della noia afferisce a una serie, un gruppo di operette che ora cercheremo di analizzare più nello specifico. In particolare il dialogo di Malambruno e di Farfarello come il dialogo della natura e di un'anima fanno riferimento a questo squilibrio tra i desideri e a loro realizzabilità, cioè tra il desiderio dell'uomo e i singoli relativi desideri a cui l'uomo può realmente arrivare che però non danno il piacere all'uomo stesso. Molto interessante il dialogo della natura e di un'anima perché riprende da vicino quello che i temi dell'ultimo canto di saffo di questa canzone appunto del suicidio e cioè il contrasto tra un corpo e un'anima, quindi la bellezza di un'anima all'interno di un corpo che può anche non essere particolarmente gradevole. Il dialogo di Torquato Tasso e del suo genere familiare affronta invece il tema del piacere che risiede o nel futuro, quindi nella speranza, oppure nel passato, quindi nel rimpianto e questo sarà un tema che poi vedremo ripreso anche in due famosissimi canti pisano-recanatesi, meglio proprio recanatesi perché appunto composti pubblicati e recanati, cioè la quiete dopo la tempesta è il sabato e il villaggio. Il dialogo di un fisico e di un metafisico, il dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Curti e Rez affrontano invece una particolare infelicità dell'uomo e cioè l'uomo che si rende conto di essere infelice cerca di combattere questa infelicità o attraverso l'intensità delle sensazioni, come nel dialogo di un fisico e di un metafisico, oppure mettendo costantemente a rischio la propria vita come antidoto, il dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutiérrez, quindi la scelta nel secondo dialogo dell'azione come antidoto, come unica occasione per poter non sentire la noia che ci circonda. L'ultimo dialogo che prenderemo in considerazione è il dialogo di Federico Ruiz e delle sue mummie. Qui Leopardi affronta non soltanto nella parte iniziale, anche questo canto straordinario delle mummie, il tema della morte come fine del desiderio e quindi ovviamente fine del dolore. Questo è un tema su cui Leopardi è intervenuto altre volte sin dalla teoria del piacere, dal momento che l'uomo non può non desiderare e i desideri relativi non accontentano l'uomo ma anzi lo gettono ancora di più nell'infelicità, chiaramente la morte rappresenta non solo la fine della vita ma anche la cessazione di ogni desiderio e quindi di fatto insomma il desiderio per eccellenza viene meno con la morte ma con la morte evidentemente viene meno anche il dolore. Nel 1827 Leopardi affronta due altre operette, entrambi importanti. La prima come si può evidentemente capire dal titolo il Copernico è una critica anche questa contro l'antropocentrismo e quindi con questa grande rivoluzione che Copernico ha fatto aiutando così l'uomo a sentirsi sempre più piccolo, sempre più infimo, non soltanto l'universo ma anche questa terra. L'altra opera invece il dialogo di Plotino e Porfirio è molto interessante perché apre all'ultima fase del pensiero della riflessione leopardiana. Si tratta di un dialogo che avviene appunto tra il filosofo Plotino e il suo allievo Porfirio, Porfirio comunica a Plotino la sua intenzione di uccidersi, di suicidarsi appunto e Plotino cerca in tutti i modi, elencando tutta una serie di ragioni prese dai filosofi antichi sulla inutilità del suicidio. Nello stesso tempo vedendo che non riesce a convincere insomma Porfirio prova ad affrontare l'argomento in una maniera forse più sentimentale. In questo caso tangenzialmente ci ricorda anche qualche passaggio dei sepolchi del foscolo, cioè Plotino dice a Porfirio immagina il dolore che tu puoi arrecare a quelle persone che rimangono in vita, quindi il dolore che puoi provocare a delle persone che ci tengono a te. E quindi il dialogo evidentemente che gira intorno sicuramente è l'infelicità umana, cioè Porfirio decide di suicidarsi perché è un uomo infelice. Tocca anche e non può fare diversamente il rapporto uomo-natura e quindi il tema abbiamo detto del suicidio, ma quello che a noi interessa è l'affermazione che troviamo quasi alla fine del dialogo in cui Plotino invita Porfirio a vivere. Viviamo Porfirio mio e confortiamoci insieme. È un'affermazione particolarmente interessante perché Plotino invita Porfirio a rimanere in vita, quindi a resistere in questo mondo infelice e soprattutto, cosa più interessante, a l'un l'altro, confortarsi, quindi confortarsi, darsi una mano, aiutarsi l'un l'altro. Sembra già di sentire quella social catena che comparirà nella ginestra, quindi diversi anni dopo. Ma il concetto è questo, nella ginestra Leopardi dice che l'umanità deve consorziarsi appunto contro l'unica che è davvero nemica. Anche qui quindi da questo 1817 comincia l'ultimo momento della riflessione leopardiana in cui Leopardi appunto non solo sente ancora il bisogno, anche in maniera polemica, di comunicare la veridicità delle sue riflessioni filosofiche, ma soprattutto sente anche il bisogno di umanità, cioè questa catena sociale, di legarsi a delle persone per appunto cercare di confortarsi scambievolmente, quindi insieme si può sopravvivere e si può lottare meglio contro la natura. Tra il 1832 e il 34 Leopardi scrive le ultime due operette. Il dialogo di un venditore di almanacchi, di un passeggere, è un dialogo brevissimo, probabilmente la più breve tra le operette morali di Leopardi è un'operetta fortemente dialogica, cioè c'è uno scambio di battute estremamente serrato, dovrebbe sembrare quasi uno dei dialoghi platonici, ed è appunto la storia di un venditore di almanacchi che vuole vendere questo almanacco a un passeggere, il passeggere dietro cui ovviamente si scela Leopardi, e questo è un aspetto interessante, su cui ci soffermeremo ora, fa notare al venditore almanacchi che ogni anno lui vende questo ottimismo futuro che poi in effetti si rivela falso, cioè nel senso che ogni anno diventa anno triste e infelice come quelli precedenti e quindi è una riflessione contro il facile ottimismo delle classi dominanti, di quelle magnifiche sorti e progressive che troveremo come sottotesto dell'ultimo Leopardi, Ginestra anche, e appunto la riflessione questa degli anni precedenti della quiete dopo la tempesta, anzi del sabato del villaggio, scusate, il piacere sempre futuro, quindi la possibilità di provare il piacere che risiede sempre nel futuro. Avevamo detto che dietro il passeggere si cela Leopardi, e in effetti questa è una caratteristica che accomuna questo dialogo all'altro, l'ultimo, il dialogo di Tristano e di un amico, perché qui appunto Tristano dichiara come la palinonia al Marchese Gino Capponi, quindi con lo stesso procedimento palinodico, cioè dico una cosa ma intendo un'altra, dico ho sbagliato, mi sto ricredendo, insomma, invece non mi sto ricredendo per niente, riaffermo ovviamente le mie idee, ecco in questo dialogo Tristano, che rappresenta, abbiamo detto, Leopardi, difende, difende se stesso, difende cioè Leopardi contro il facile ottimismo delle classi dominanti dell'epoca. Fa finta di ritrattare, avete ragione, il mio libro era davvero, davvero noioso, davvero pessimista, eccetera, ma andando a scorgere, e neppure tra le righe, ma semplicemente leggendo il dialogo, ci rendiamo conto che nel momento stesso in cui fa finta di tornare indietro sulle sue opposizioni, di fatto le riafferma con maggiore forza. Grazie.